Che tipo di veicolo stiamo per andare a provare? Un veicolo elettrico, marchiato Enel, di che si tratta? Un veicolo Nissan Zoe, 100% elettrico, zero emissioni di CO2 nell'ambiente. Un veicolo che praticamente si muove con ricarica elettrica, quindi con la corrente nelle nostre case. Questo consente al mezzo di potersi spostare su qualsiasi territorio, anche lì dove ci sono delle zone a traffico limitato o comunque situazioni dove lo smog raggiunge dei livelli importanti dove vengono a essere bloccate le autovetture con il motore termico. Queste macchine al 100% elettrica hanno la possibilità di circolare liberamente. Una ricarica di questa autovettura che percorre 100 km ci vogliono circa a pieno carico 6-7 euro, sotto i 10 euro. I tempi di ricarica? I tempi di ricarica vanno da un minimo di un'oretta a due ore per averla completa. Poi dipende sempre dalla percentuale di ricarica, o meglio, dalla percentuale di ricarica che ha la batteria al momento in cui si va a ricaricare l'autovettura. Ecco, un'automobile di questo tipo rispetto a un'auto a benzina, che caratteristiche ha? Cioè ha la stessa tipo di ripresa oppure il motore un po' più lento? No, da questo punto di vista bisogna dire che il motore termico in sé per sé ha comunque una prima inerzia che deve vincere per poter dare attrazione alle ruote. Nel caso specifico invece la coppia massima del motore elettrico viene immediatamente inviata come input alle ruote e quindi si ha immediatamente la ripresa giusta. Dopo aver conquistato la quattordicesima bandiera blu della Fè ed aver ottenuto per il terzo anno consecutivo le Cinque Velle Marine e il prestigioso riconoscimento di Lega Ambiente e Turic Club Italiano, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Roccella Ionica guidata dalla sindaco Giuseppe Certomà per promuovere tra i cittadini la cultura della sostenibilità ambientale e nuovi stili di vita. Significativi benefici economici per i cittadini che decidono di avvalersi di questo tipo di mobilità perché il veicolo elettrico che ha un'efficienza energetica due volte superiore a quella di un veicolo tradizionale consente di ridurre i costi per il rifornimento di oltre il 50%. Con tale obiettivo è stata organizzata a Roccella la giornata della mobilità elettrica, ovviamente in collaborazione con Enel. La nostra cittadina con questo progetto apre una nuova frontiera sul tema della tutela ambientale, ha affermato Vittorio Zito, assessore all'ambiente del comune di Roccella Ionica. Con Enel facciamo due cose molto importanti, la prima è una cosa concreta, inauguriamo la colonnina di ricarica per i veicoli elettrici che posta in prossimità del parco giochi bambini, una colonnina di ricarica gratuita e saranno installate poi nei prossimi giorni altre tre postazioni di ricarica. Quindi Roccella si candida ad essere il primo comune in Calabria a mettere a disposizione dei cittadini e soprattutto dei turisti che affollano le nostre strade anche questo ulteriore servizio, c'è il servizio di ricarica gratuita elettrica per i veicoli elettrici. La seconda cosa che può sembrare meno concreta ma non lo è è invece l'annuncio e l'avvio di una strettissima collaborazione con Enel che prevede una serie di altri interventi. Durante il convegno li declameremo tutti, mi preme ricordarne solo uno in questa fase, c'è un importantissimo progetto che abbiamo sul depuratore comunale, c'è quello di ricavare dal depuratore energia con un mini idroelettrico. Noi portiamo le acque da depurare ad un livello di più 80 metri sul livello del mare, poi a caduta vanno verso il mare e vorremmo recuperare l'energia dell'acqua a caduta per produrre energia elettrica alimentando il depuratore. Questo assieme ad altri interventi in programma con Enel faranno di roccella concretamente una smart city. Ci vogliamo dare significato concreto a questo concetto di smart che è spesso usato in maniera non concreta, più che altro concettuale, mentre noi vorremmo dare proprio dei segnali concreti di una smart city. Noi partiremo con l'elaborazione di un piano energetico comunale, c'è di una mappatura sostanzialmente di tutti i consumi del comune e la definizione di interventi di ottimizzazione di questi consumi, a partire dai lampioni per finire all'illuminazione all'interno degli edifici pubblici, eccetera. Con Enel il rapporto è iniziato a partire dal depuratore comunale. Noi abbiamo fatto un'operazione tra l'altro poi anche replicata in altri enti, cioè quella di consolidare i debiti che avevamo nei confronti di Enel, di cambiare classe di merito in qualche modo nella fornitura risparmiando ben 180 mila euro all'anno solo da un punto di vista amministrativo. Da lì è partita una forte collaborazione con Enel, di recente ci siamo incontrati con i responsabili comunicazione, con i responsabili per la Calabria e la Basilicata di Enel e quindi andiamo avanti. Dunque con Enel Energia si consolida una salda collaborazione che porterà a breve, come abbiamo visto, a risultati eccellenti, che consente oggi a Roccella Ionica di essere uno dei primi comuni, se non il primo in Calabria, a mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti le postazioni di ricarica per i propri veicoli elettrici. Per coinvolgere i cittadini e i turisti è stata organizzata la manifestazione che ha avuto inizio alle 18 a Largo Colonne su Lungomare, dove è stato allestito il villaggio Enel con diversi stand espositivi, tra cui quello di Enel Energia, nel quale è stato possibile visionare e provare alcune bici elettriche messe a disposizione dall'azienda, dello stesso tipo di quelle cinque acquistate proprio in questi giorni dalla Comune di Roccella Ionica. Invece intorno alle ore 19.30 si è tenuto uno spazio istituzionale durante il quale sono intervenuti il sindaco Giuseppe Certomà, Vittorio Zito, assessore all'ambiente del Comune, ed Augusto Raggi, responsabile macro area sud Italia di Enel Energia. La garanzia non è soltanto Enel, ma è anche la collaborazione che ogni giorno troviamo sul territorio, insieme a dei sindaci così illuminati, come quello di Roccella Ionica, la collaborazione di oggi che vogliamo festeggiare insieme al sindaco, insieme a tutta la cittadinanza, è quella sulla mobilità sostenibile. Abbiamo iniziato un percorso con quattro colonnine di ricariche elettriche per tutta la cittadinanza qui a Roccella Ionica, con cinque biciclette elettriche e la mobilità sostenibile, la mobilità elettrica diventa una realtà qui a Roccella Ionica. Parlavo prima col sindaco dicendo che molti si freggiano del fatto di voler fare dei progetti sulla mobilità sostenibile, ma soltanto alcuni, quindi quello primo in Calabria con Roccella Ionica, lo stanno facendo. Quindi devo dare atto al sindaco, alla cittadinanza di Roccella Ionica, di essere stati non soltanto bravi nel pensare di voler lavorare bene sulla mobilità sostenibile, ma anche di realizzarla. Quindi complimenti a loro. Lei parlava di un'automobile elettrica, di cinque biciclette elettriche che saranno utilizzate sul lungomare, probabilmente anche a titolo dimostrativo immaginiamo. Sì, oggi qui c'è la possibilità di fare dei test drive con l'auto elettrica, una Zoe elettrica e quindi cinque biciclette elettriche. Questo è un momento importante perché la cittadinanza verifica con mano quanto sia piacevole anche la guida elettrica. È una sensazione nuova, è una sensazione che porta sostanzialmente risparmio, ma anche sostenibilità ambientale. Quindi ci sono emissioni zero, CO2 zero nell'atmosfera e quindi questo fa bene anche all'ambiente. Quindi è una cosa ottima. Senta, lo so che potrebbe essere in conflitto di interessi. Qual è il vantaggio di avere questo rapporto con Enel, anche per altre situazioni di Smart City? E qual è il vantaggio di utilizzare per esempio un'auto elettrica rispetto ad un'auto normale? Cioè l'elettricità, qual vantaggio porta? Guardi, le faccio un esempio. Un pieno di un'automobile che percorre 200 km lo si fa con 5 euro. 5 euro per percorrere 200 km in piena sostenibilità, con il pieno rispetto dell'ambiente, credo che sia un vantaggio e un traguardo che tutti i comuni in Italia dovrebbero avere. Dunque, nell'occasione sono state inaugurate anche 4 nuove colonnine per la ricarica elettrica, sia per bici che per autovetture, che sono state fornite di energia elettrica. azienda leader, ovviamente l'Enel, nel campo dell'efficienza energetica nella sostenibilità ambientale, che diventerà partner dell'amministrazione comunale nello sviluppo di progetti per migliorare l'efficienza energetica di uffici comunali e per promuovere la mobilità elettrica. Infine, hanno concluso la manifestazione con attività di intrattenimento, concerti, musica live e spettacoli fino a mezzanotte. Grazie. Grazie.